Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è 2 gennaio 2009, i volti del dominio. Vediamo un po' di che cosa si tratta. Nel mondo patriarcale, che inizia con l'invenzione di proprietà privata, schiavitù, servitù, matrimonio monogamico patriarcale, monoteismo. Orribili sono i volti degli esseri umani, tutti quanti rappresentanti la cupidigia del denaro. Sono orribili i volti dei ricchi, dei ricchi che hanno accumulato e accumulano e continuano ad accumulare e magari hanno il volto sazio, sazio per la quantità di denaro accumulato e che lo tengono ben stretto nelle cassaforti. Ma altrettanto orribili sono i volti dei poveri, perché i volti dei poveri rivelano il desiderio di possedere il denaro dei ricchi, entrambi ricchi e poveri, accomunati dalla stessa cupidigia per il denaro. Ora, sulla gente politica di centrodestra c'è poco da dire, perché la gente politica di centrodestra, l'ho già detto tante volte, rassola male e predica male. Gli uomini del centrodestra, gente che ha accumulato, non dice mica che vuole il potere per far del bene, vogliono il potere per gestire il potere, punto e basta. Ma negli uomini di centro-sinistra, noi vediamo un volto che ha una duplice maschera, perché per poter prendere la ricchezza, questo virus che ha infettato tutti gli esseri umani, per poter prendere la ricchezza, dobbiamo coprirci il volto di una maschera di affabilità. Secondo le regole dettate dal proverbio, le vie che conducono all'inferno sono lastricate di buone intenzioni. Vediamolo qualcuno di questi volti, vediamolo. Ecco qua, guardate, guardate, senza offesa lo dico, guardate il volto di Cecilia De Gregorio. Vittorio Gramsci si rivolterebbe nella tomba se sapesse che questa donna ora dirige il quotidiano da lui fondato. Guardatelo, il volto del dominio. Ella, come direttore dell'unità, spara ad alzo zero contro il suo nemico di destra, Berlusconi, ma non si perita di pubblicare i suoi libri presso la casa editrice Mondadori, che è appunto di Berlusconi. Nulla da eccepile nei confronti della casa editrice Mondadori, ma lei, Cecilia di Gregorio, Cecilia, 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 come si chiama? Cecilia, no, Concita di Gregorio, Concita di Gregorio, avrebbe tante altre gloriose case editrici presso cui pubblicare i suoi libri. Ecco, guardate questa posa, il volto del dominio, il dominio di chi si è collocato a sinistra accanto ai poveri, semplicemente per far carriera sulle spalle dei poveri. Guardate che volto altezzoso e tracotante. E qua, Antonio Padellaro è stato direttore dell'unità ed ora, che non lo è più, vuole fondare un suo quotidiano perché vuol fare il capo, non il Gregorio. Vuole fare il capo perché uno degli aspetti del dominio non è solo l'accumulazione del denaro, ma anche il comandare. Poi arriviamo a liberazione, andiamo a liberazione. Il volto, lo conoscete vero questo volto? Niki Vendola è la lotta, la lotta vergognosa che si sta svolgendo sulle spoglie del quotidiano liberazione. Tutti ne vogliono diventare i direttori e il quotidiano è tirato da una parte e dall'altra. Di mezzo c'è anche uno psicoanalista, Massimo Fagioli. Però, benché questo sia uno psicoanalista libertario, libertario che predica la libertà sessuale, a me non risulta che intenda promuovere la libertà sessuale attraverso una modificazione dell'assetto proprietario. Ormai il virus, il virus della proprietà privata, il virus del denaro, ha contaminato l'intera umanità. E possiamo dire che l'URSS ha svolto nel mondo per 60 o 70 anni lo stesso ruolo che sta svolgendo la sinistra in Italia è un tentativo di ritorno al matriarcato che nell'URSS è crollata non per colpa dell'ideologia marxistica, ma è crollata, il tentativo di tornare al matriarcato è crollato nell'URSS semplicemente perché anche i cittadini dell'URSS ormai sapevano che cos'era la proprietà privata. è crollato per questo motivo l'URSS. Così la sinistra, o anche l'estrema sinistra, in fin di conti vuole le cose che vogliono tutti, vogliono potere e ricchezza. Potere e ricchezza. Soltanto che non lo dicono. Ed essi attuano quella politica, quel comportamento di cui tanto bene scrisse indice nella genealogia della morale. Si vestono del resentimento, risentiti contro i ricchi perché vogliono anch'essi il potere e la ricchezza. Ecco qua. Povero Antonio Gramsci, guarda chi è il tuo erede. Guarda qua. Povero Antonio Gramsci, come soffrirai nel mondo delle ombre a vedere un tale spettacolo. Cari amici, entrambi orribili sono i volti del dominio, i volti della ricchezza. Sia che la ricchezza sia nelle mani dei ricchi, sia che la ricchezza sia desiderata dai poveri. Un unico virus ha inquinato l'intera umanità. Quinta agenda, come fare? Come fare? È necessario un processo di liberazione interiore per cui ciascuno di noi si renda conto che siamo ammalati di un virus chiamato proprietà privata. Se ci rendiamo conto che la proprietà privata, come ho già detto in tanti video, è una semplice illusione, noi smetteremo di desiderarla e il mondo potrà cambiare. È un processo di crescita interiore e nei cui confronti ci puoi aiutare la dottrina del Buddha. Cari amici, grazie se mi avete seguito e tanti saluti da Serafino Massoni. Grazie. Grazie.